Siamo arrivati nuovamente a 20 pacchetti 21, ma uno lo schippiamo Ne abbiamo 2 di quelli ancora Doctol's Curse Packs E poi 19 di quelli normali Ne apriremo 18, ok? Ovviamente prima di cominciare Chat se volete salutare YouTube Chat di YouTube Cioè chat di Twitch Fatelo ora qua Salutate YouTube o vostra madre su YouTube Non lo so se volete Apriamo prima ovviamente quelli normali Apriamo quelli normali Ricordiamoci che ne deve rimanere uno Speriamo di ricordarcelo Oggi spero di trovare una sola nero Perché l'ultima volta veramente è stata una delusione Che veramente porco du Non ce la posso fare più Quindi vi prego Ti scongiuro Ubisoft Vabbè È fredda ancora È fredda un attimo di scaldare Vabbè ne diamogli un po' di script in più dai Carina eh Chat per farci scoprire di più Perché non prendere Rook, Amber, Rise o Dog Che cazzo è Dog Ok Next Let's go Uh Allora Miglioriamo Dal grigio Passiamo al blu In teoria prima ci dovrebbe essere il verde Però vabbè Sto dal tonici Ma Oddio Sapete che sledge Carino questo chibi Sapete che mi piace particolarmente Lo accetto Pure se non uso i ciondoli Posso dire che è bello però Allora Let's go Vedete raga Vedete raga Prima grigio Poi blu Pure se ci dovrebbe essere il verde però E ora Il viola Finalmente una sola nero A noi Che ci meritiamo tutto da Ubisoft Perché giochiamo al loro gioco Sempre Con i cheater Con i glitcher Con i bug abuser Con aid Tutte cose negative Quindi io mi merito Una sola nero Ok chat Te la merito Va bene Quindi 3 2 1 Ma perché se ne compra due Se ne usa uno Spiegamelo Compratene uno Esiste pure quello da uno Ti costa il doppio Con due binocle Ne usa uno Ma è scema Il mercato Va in grì Sentite 3 2 1 1 3 3 2 1 2 2 2 3 Signori Merito solo gli applausi Merito solo gli applausi L'SMG di MUTE Che non verrà mai perché uso l'SMG l'altra MA Di Wamai Che non ce l'abbiamo Però quando lo sbloccheremo Perché mi piace un botto Io Su Wamai Su Wamai Su Wamai Quest'arma GG 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 Finalmente dopo 700 episodi Una sole nero Vabbè Ci è creduto un po' troppo poco Pulse Però va bene Ho pulse Allora Blu Let's go E' il secondo account E' il secondo account Purtroppo Quindi io però non ce l'abbiamo Però Vabbè Non guardiamo qui che non c'ho niente Eh Bella Ci piace Acconsentiamo Questa skin Molto molto bella Sinceramente Molto bella Appena sbloccheremo gli operatori Magari Allora Siamo abbonati al blu E' rotto le pal E' rotto le pal Bella Questa acconciatura La troviamo Negli anni sessanta Eh Vuoi venire che te faccia acconciatura 5 euro Eh Te faccio con leccata del moji Oh Te lecco tutta la moji Mi è venuto a fare i cappelli da Riccardone Bruttissimo Oh e cambiamo colore che mi sto a seccare Ed Siamo pronti Ok Ok Il gioco ci potrebbe dare nuove emozioni Proprio in questo istante chat Ok Il gioco dopo 35 Cosa è blu Finalmente E' rientrato in pista Ok E' un po' sbandato Stava un attimo frenando Ma poi Si è ributtato dentro Ok chat Con questo pacchettino fantastico Let's go 3 3 2 1 3 3 5 5 6 6 8 8 8 9 9 10 10 9 10 10 12 12 12 13 chat, il gioco ha assimilato tutte le vostre risposte e le ha buttate tipo Sfera Genkidama nello script ora ovviamente ne pescherà uno si, è questo il gioco ok chat copri capo di Capcan, lo bagniamo Kenji grazie, allora let's go 3 2 1 no, di nuovo questa, che è sto sughero di me l'ho trovata pure nel primario basta ma che questa è fiola ma di dove, dove di tua madre quella benedetta ragazza che lavora al porto e prendi i tonni prende, molto molto particolare, si, mi piace mi piace questa parte qui si, questa papura, questa è molto bella e soprattutto pure il dietro il dietro dove ti appoggi la scella sudata mi piace un botto questa parte qui la colorazione di questa pa di questa parte mi piace un botto si molto bella, si non vedo l'ora di trovarne altre ok apriamo apriamo porco 2 sapete che mi piace un botto sta skin sembra tipo quella della NASA è bellissima ma sapete che mi piace un bordello questa pog raga mi piace un bordello sembra tipo quelle di COD della NASA sono bellissime per esce poi figa ci mancano 5 pacchetti ancora let's go verde carino no no molto particolare vabbè dai ecco raga verde come il pacchetto quindi si vai vai a fare il galà vai no 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 mannaggia i mani mannaggia non così vicino però no non summarti così tanto che mi fai veramente bella eh ci mancano gli ultimi due raga di quelle normali let's go allora ho F2 su SMG let's go il gioco ne ha messi dentro 3 2 1 signori spero esco una skin figa perché raga l'arancione o è figo o è merda cioè non c'è una via di mezzo ok spero vivamente una cosa di figa 3 2 1 allora sembra più blu ok non è come quella tipo di di dell'scr 2000 la k quella la tipo del lupo di kali sembra una skin blu però va bene ci può stare ok ci sta ci sta è più verso il blu mi aspettavo di meglio però mi aspettavo anche di peggio quindi ci sta ci sta ci sta va bene noi apprezziamo questa cosa giapponese mi piace molto con i cangi mi piace ci sta dai dai raga allora raga bella collezione ve la faccio vedere velocemente su queste cose qua ci si può trovare la qualunque ci sono un botto di skin altro spero di non trovare i ciondoli perché veramente no let's go si prega almeno violo cioè ho già eh giallo arancione che cos'è ok ok è viola è viola possiamo trovare ho qualche completo cioè ho sotto sopra figo ho qualche skin attachments spero in non in un ciondolo viola non so neanche se ci stanno i ciondoli viola spero in qualcosa di figo 3 2 1 uuuu deeeemm cheeeemm what the fuck is going to do deeeemm lezza luccica splendente deeeemm deeeemm gucci pog tantissimo porco 2 il secondario mi diventa il primario io impazzisco di cristo che pack opening assurdo e ce ne rimane un altro ci rimane quest'ultimo mannaccia la nella vita non bisogna volere troppo ok troppo stroppia ok tranne che per la pizza per la pizza quello non so troppo allora purtroppo almeno spero cosa c'è brucare 3 2 1 mamma 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 di halloween quella schinfiga di della nasa pure se blu era bellissima o cos'era verde blu un ombrico comunque ho perso blu io non mi lamento chat deeeemm pure quella divana che dice te che è in gioco è più figa quindi va bene gg il primo no il primo no è però uno cioè il primo dopo 3-4 episodi di me il primo finalmente decente te posso dire bella zio ho dato gg eeeh musica